Belli miei, benvenuti e bentornati in un nuovo video, benvenuti al mio canale e bentornati. Oggi andiamo sempre avanti con la parte DLC di Brotherhood, però ritorniamo nella nostra vita amorosa. Perché? Perché sono arrivato al 75% del gioco, quindi ci sono sbloccate le altre 2, 3, 4, adesso non mi ricordo quante missioni sono. Fatto sta che, come quell'altro video, sono tutte quante unite, quindi viene fuori un episodio unico, sperando vada tutto bene. Questo video dovrebbe uscire sabato, quindi sono nella casa nuova e se salteranno dei video, le live ovviamente salteranno finché non avrò una connessione o finché non troverò un modo per farle. E vi chiedo scusa se salteranno dei video, anche perché devo caricarli, fare tutto quanto con il 4G del telefono, 5G, insomma quel cazzo che è. Per fortuna ho i dati limitati ma non hanno la stessa potenza di un wifi, di una connessione internet a casa, ok. Detto questo, buon video. Manfredo, che è successo? Gli uomini di Savonarola sono entrati, hanno distrutto tutto. Dov'è Cristina? Manfredo? Lei dov'è? È fuggita, ma lei seguivano. No! Ok. Proviamola subito, all'istante. siamo ritornati nella nostra bellissima Firenze e quando siamo tornati indietro per uccidere quel bastardo che ci aveva rubato la mela in Assassin's Creed 2. No, no, no. Mamma mia, prova a toccarla e ti... ti inc... Bastardo. No, no, no. Pelesemente è morta. Cristina, resisti. Ti troverò un dottore. Starei bene, vedrai. No, Ezio. Non credo proprio. No! Non andare. Resta con me, Cristina! Ezio. Non lo sai. Io sono sempre stata con te. Sì. Wow. Vorrei tanto che... ...avessimo avuto... ...una seconda occasione. Riposa in pace. Amore mio. Madonna, che brividi. Vien da piangere. Io ovviamente sapevo della morte di Cristina, ma... ...spero che non mi abbia sbloccato solo una missione. Anche perché questo video sono al tipo di 5 minuti, capito? Cioè, ascolta adesso. Così, basta. Ok, aspettate un attimo. Che googolo. Ok ragazzi, vi chiedo scusa. Perché adesso ho cercato un attimo su Google quante sono le missioni di Cristina. E in realtà, nello scorso episodio, le avevamo fatte tutte. Quattro ne avevamo fatte. Insomma, quante cazzo sono loro? A parere mio, questa è un'inculata. Perché tu mi fai arrivare per forza al 75% del gioco. Per sbloccarmi una missione sola. Io questo non me lo ricordavo. Mi dispiace. Verrà un video più corto, però... Oh, mi dispiace. Non me lo ricordavo. Però, insomma. Lascia un like per la morte della nostra Cristina. Che è stata una scena comunque molto toccante. Lascia un commento con scritto RIP. E iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Sempre se ne hai voglia. Detto questo, ti auguro un buon pomeriggio. Una buona serata. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.